le chiederei un commento su questo spezzone di video che dobbiamo vedere da un paio di giorni praticamente nell'incredibile vicenda cabrone rubino ci hanno detto molti più di mille persone hanno detto ragazzi mi avete stoppato il video a 40 secondi dalla fine e c'è una clip allucinante 46 secondi che avete schippato dovete assolutamente vederli abbiamo perso la pazienza purtroppo non è facile vedere un video del cabrone passati due giorni abbiamo guadagnato abbiamo un attimo metabolizzato io vorrei il commento del signor mauro soprattutto vedere un attimo sto spezzone perché addirittura ha ricevuto per mail grazie mister puoi quando volete vado prego 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 ci vediamo stasera amore mio ciao ciao il pub è rosicato ha rosicato che era fidanzata no che ha detto non è il mio tipo tra l'altro c'era proprio sbolognato quello dice affronta e adesso vuole fare il finto sigma col gabrone pure che sei fomento diamo questi sono tipo i modelli che i ragazzi apprezzano perché è forte è stato è stato una sedia fino a tre secondi prima ha mandato la donna a fanculo in seguito a rifiuto in seguito a rifiuto non l'ha accettato e ha fatto il grosso allora grande sei veramente sei patrick bateman del samsara è una volpe in tutti i sensi ma come ti permetti ma chi sei bravo è questo lo spirito cioè fossi una figa ti dico vabbè è questo lo spirito ma come te ce ne sono tante ma guarda che viscito sei un viscito ti ha bullizzato sei un viscito no sei un viscito come te te ne sono tante sei un'anguilla cioè fino al secondo prima le calcula amore mio stai qui poi ti rifiuta eh vabbè ma fossi una figa ma neanche l'ha rifiutata ha detto soffidanzata ho parlato davvero di un ragazzino quelli questi ai tempi miei venivano definiti come un velo di culo ma si dai è una roba imbarazzante veramente ragazzi io qui son serio è una cosa imbarazzante si vede che non è neanche tanto per il content certo è enfatizzato però quando gli stava a sbavà che lei gli stava a cavacecio non era così brutta gli piaceva era tutto emozionato basta andare un po' prima era tutto rosso la guardava negli occhi come uno che sta avendo una visione eterea come se non fosse vero che ci fosse una ragazza che gli stesse dando attenzioni e mo' la manda a fanculo si tra l'altro lei educatissima ha detto sono fidanzata non è il mio tipo cioè non ha affatto nulla di strano non si è comportata male capito dice oh cazzo ti sei comportata de merda sei una stronza rispondo anche io con gli stessi toni mamma mia che marazzo anni proprio ma infatti ma lui qua dice proprio mi ha bullizzato ma quando ma dove guarda che faccia qua che c'è il gabbro troppo risentiamo un attimo qua scusate ma come ti permetti ma chi sei bravo è questo lo spirito cioè fosse una figa ti dico vabbè è questo lo spirito ha bullizzato ma c'è come te ce ne sono tante cioè che vuol dire ma bullizzate che stava a dire se fosse una figa mi ha bullizzato perché una ragazza bella però visto che non è una figa non ho percepito il danno no io vorrei farti io vorrei farti sapere che solo per quello che hai detto hai dimostrato quanto sei piccolo quanto sei ragazzino e quanto vuoi dimostrare quello che non sei guardati allo specchio e mettiti a piangere fatti le domande saggio signor mauro io mancavo capito quello intendeva dice secondo me è poi per carità di dio no no è vero è vero sicuramente signor mauro ne sa lei molto saggio no dannazione oddio non aveva tutto a posto è stato un rapidissimo change mi sono messo paura cosa cosa sbaglio indietro non so e lei mi ha detto a me a me piace questo sì una cagna fa stare che cazzo io prendo le distanze però che ridere che vergogna mamma mia ma poi è tutta scena cioè solo perché c'è la telecamera eh ma ripeto è enfatizzato per la telecamera ovviamente come tutte le cose che diciamo noi però il rosic è palese perché secondo prima era veramente il cagnolino leone il cane fifone questo non è enfatizzare davanti alla telecamera io vi dico che i ragazzi dai 10 ai 14 anni usano scherzare così e magari ci ritono anche no il mondo degli adulti funziona in maniera diversa secondo me si vuole si sta rivolgendo a un pubblico diverso non dovrebbe proprio averlo sì sei una cagna cioè inaccettabile in generale pure per fare il grosso e fatte vedere che sei eggi però piano sì pub piano pub ma proprio perché sei davanti a una telecamera pensi che la soluzione sia insultarla no? ma sai perché Simone? poteva pensare pure faccio il superiore e faccio vedere che non me ne frega niente uno può adottare mille strategie se sono strategie ma come diceva pure Davide il rosic è evidente quindi ci vuole una certa intelligenza sai qual è il fatto che l'insulto è successivo alla sua percezione di reputazione intaccata? eh sì sì cioè l'insulto perché ha intaccato la mia reputazione da sicura da scopatore quale reputazione? non si deve permettere questa cagna bastarda mi ha rifiutato davanti a tutti quale reputazione? bella domanda signor Mauro quella è la sua testa? di quello che c'ha del pitocchio che c'ha bisogno di appoggiarsi a qualcuno che gli dia un'aura più scopabile rispetto a quella che poi c'ha il giorno dopo quando sta davvero sulla tazza del cesso con le mani nei capelli ma scoperà pure ragazzetto per carità però secondo me è una roba vergognosa ma guarda che se tu vivi in funzione di scopare alla fine scopi quindi secondo me il fatto di scopare o meno non è né un merito né un demerito secondo me va analizzato quello che c'è alla base alla base c'è un ragazzino che deve crescere perché si vede proprio no no signor Mauro un attimo sto video che cosa? Fubbe bullizza mutente che ce l'hanno segnalato un chat per curiosità povero Fubbe anche lui bullizza o bullizza o bullizza minaccia e bullizza ma quattro giorni fa ai 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 fa vedere un po' leggere la descrizione ecco gli atteggiamenti da Bulletto del Fubbe come ho notato già anche dal Cerbero ha dei comportamenti alquanto alquanto vai vai apri fammi vedere la descrizione no no discutibili tenta a discreditare ad ogni costo con metodi infantili e lui vedeva il bullismo invece in quell'altra nella tipa strano curioso